Ehi dai non fare il pigro, ricordati di iscriverti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ciao ragazzi bentornati sul canale, come vi avevo promesso ho registrato la mia run all'interno dell'ultima delle corse al boss di questo progetto appunto di avere una corsa al boss a settimana che racchiude un po' tutti, 31 scontri, ho fatto la difficoltà epica e quindi volevo condividerla con voi. Allora il team che ho usato è composto da Quake, Nick Fury, Capitan Marvel, Warlock e Magic. Sono tutti quanti 5 stelle rango 5 tranne Warlock che è 6 stelle rango 3. Ho preparato il video per voi, ve lo volevo mostrare e ci sentiamo poi nei commenti. Ditemi la vostra, ditemi se vi è piaciuto, ditemi con chi l'avete fatto voi, se avete avuto difficoltà e creiamo discussione al solito. Spero che gli scontri vi piacciano, una buona giornata a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!